Questo programma è offerto da Il sindaco di Ficarazzi, Paolo Francesco Martorana che ha preso coscienza dell'emergenza acqua e che insieme alle amministrazioni dei comuni limitrofi dal capoluogo siciliano hanno preso parte una manifestazione per sostenere gli attuali lavori APS e presentare le problematicità sulla questione auto-idrica al Presidente della Regione, Rosario Crocetta Il fine non è solo quello di solidarizzare con un sistema che vede gli operatori APS lavorare gratuitamente sulle reti idriche comunali e per un'azienda ormai ufficialmente in fallimento ma sottoporre la questione dell'acqua come un bene comune a cui nessuno può essere sottratto Pertanto le amministrazioni e i comuni tutti intendono invitare il Presidente Crocetta a un'attenta valutazione di un piano industriale che difende il diritto ad un bene primario Caso di agrifurto assente Cristina Gela A scoprirlo è stata la partuglia dei carabinieri della stazione di Piana degli Albalesi del poveriggio di giovedì scorso Gli agenti hanno sorpreso tre ladri all'interno di un podere di proprietà privata del quale si erano introdotti per asportare i noci degli alberi li impiantati per poi caricarli sulla loro auto I tre sono stati arrestati nella flagranza di reato e giudicati con rito direttissimo concludosi con la convalide dell'arresto L'intero carico di doci recuperato circa 50 kg è stato poi restituito al legittimo proprietario Succede al centro storico di Palermo arrivano le prime piogge ed insieme a loro precipitano i primi edifici Strana combinazione di eventi eppure a 48 ore dall'allagamento avvenuto in città ieri mattina in via Santo Giosafat in una traversa di via Macqueda una delle zone più trafficate della città è avvenuto il crollo parziale di una palazzina fattiscente e per questo in via di ristrutturazione L'edificio era disabitato e nel momento del crollo nella via per fortuna non c'erano passanti per cui non ci sono state vittime né feriti riparte dunque l'allarme controlli nella zona antica della città in un ambiente ancora più glamour rinnova il tuo look da salvo militello parruccheria via Alonji 16 Ficarazzi Palermo Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50 E tu a quanto vai? Amore, io sto andando troppo veloce Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita la velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno non rischiare resta sulla buona strada È ancora nebuloso il futuro attorno all'ormai ex albergo Milocca la struttura alberghiere è sempre attorno a un tiro e molla senza fine che sta coinvolgendo il libero consorzio comunale l'ex provincia la novità di questi ultimi giorni è rappresentata dall'individuazione di soggetti interessati all'acquisto dell'albergo nel cuore del parco delle Madonie Abiso, a dire della stessa provincia che ne tiene la proprietà di natura però esclusivamente esplorativa Da tempo la questione riveste un ruolo di primo piano nelle discussioni comunali e provinciali dato che la struttura è stata indicata come fondo di garanzia occupazionale per molte persone e per questo la ditta Fiasconaro aveva avanzato un progetto per la realizzazione di un'accademia di arte culinaria Lo scorso anno infatti dopo un incontro tra il commissario della provincia Tucci il sindaco Tomminello e il maestro pasticcere Nicola Fiasconaro sembrava si fosse convenuto che il comune avrebbe potuto avere dietro la presentazione di un progetto la struttura incomodata d'uso proprio per realizzarvi l'accademia La struttura alberghiera nota per la bellezza del luogo dove assede oggi è abbandonata al degrato e da oltre tre anni è bersaglio di furti e danneggiamenti vari A lanciare l'allarme nel dicembre 2011 era stata la sinistra giovanile che simbolicamente aveva occupato l'albergo per denunciarne l'abbandono Da allora sono stati intensificati i controlli anche notturni di carabinieri e protezione civile numerosi sin da allora gli interventi del comune concentrati con l'ex provincia per la salvaguardia dell'immobile Mi trovo assolutamente in disaccordo dice il sindaco Antonio Tomminello Ho recentemente chiesto anche al presidente del consiglio di inserire all'ordine del giorno della prossima seduta di affrontare la problematica relativa ai locali dell'albergo Milocca e al loro uso visto che ormai da anni l'albergo verse in condizioni di abbandono Il presidente del consiglio comunale di Casteldaccia Maria Ingenio ha convocato una seduta consigliare presso il centro diurno di via Ugo Lamalfa per martedì 30 settembre alle ore 18 Tra gli ordini del giorno spiccano l'interrogazione presentata dal consigliere comunale Maurizio Nasca avente per oggetto l'interrogazione urgente al sindaco sulla cartella Serit l'interrogazione presentata dal gruppo consigliare per Casteldaccia avente per oggetto Latari e la proposta in materia di trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola media superiore la mozione presentata dal consigliere Caterina Africano avente per oggetto tolleranza zero per via Cavalcavie di incrocio statale 113 ed infine la sostituzione del vice presidente del consiglio comunale di missionario Marzia Santoro A cavallo tra il sabato e la domenica si è giocato l'ennesimo turno di Serie B che ha visto impegnate le due compagini siciliane Trapani e Catania rispettivamente contro Varese e Pescara Partiamo dai Granate impegnati sabato pomeriggio in trasferta a Varese La squadra di Boscai è uscita dal Francossula con una sonora sconfitta per 5 reti a 2 al termine di un match senza storia Già dopo 7 minuti di gioco il portiere Marconi si trova a raccogliere il primo pallone dal sacco firmato dal difensore Rea Passano i minuti la situazione peggiora a causa dei gol di Neto Pereira e da rigore di Lupoli Il Trapani non c'è e nella ripresa la sostanza non cambia Capezzi fa poker già dopo 3 minuti Punti nell'orgoglio i siciliani reagiscono e vanno a segno con mancoso su rigore e Nadarevic nel giro di 8 minuti Ma questa è solo una flebile illusione spenta al minuto 80 dal gol del definitivo 5 a 2 del centrocampista Lombardo Barberis Prima del trepice fischio c'è spazio anche per il rosso a Barillà Per il Trapani rimangono 9 i punti in classifica ma adesso scende in quinta posizione Se Trapani piange Catania ride grazie al fondamentale 2-1 casalingo dei rossazzuri sul Pescara di Mister Baroni Gli uomini di Sandino partono con il piede fisso sull'acceleratore e dopo un solo minuto sono già in vantaggio con Rosina che su rigore, procurato allo stesso fantasista realizza il vantaggio Gli tre però calano dopo un po' e da un contropiede nasce l'azione del gol di Melchiorri e abile a battere Anania con un tiro dai 15 metri Al duplice fischio si fa riposo sull'1-1 Nella ripresa la partita si fa più bella grazie alla voglia di entrambe le squadre di portare a casa i tre punti La svolta avviene quando Calaio batte per la seconda volta il portiere ospite e fa esplodere di gioia il massimino e il minuto 51 e da qui in poi il risultato non cambierà Nel finale, espulso per doppio giallo Ghiomber e palo di Pasquato Il Catania sale a quota 6 abbandonando l'ultima posizione vincendo la sua prima gara Sabato 4 ottobre alle 15 si torna in campo per Frosinone-Catania e Trapani-Latina due sfide difficili ma non impossibili In un ambiente ancora più glamour Rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo Match Music di Graziano Silvestri Una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano giochi pirotecnici ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni serate di karaoke o altri eventi Agenzia Spettacoli Match Music di Graziano Silvestri coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili L'agenzia Spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852 Match Music e che il divertimento abbia inizio Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000 Firma a favore di Apriti Cuore Onlus A te non costa nulla in più ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli Bambini vittime di maltrattamenti e abusi Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica Aiutaci anche tu! Bagheria, la School of Talent, apre i battenti Ieri, domenica 28 settembre è stata inaugurata la nuova sede della School of Talent a Bagheria presso i locali dello studio di registrazione di CN Music di Giuseppe Pellegrino Grande l'affluenza della cittadinanza di Bagheria e dintorni che adesso potrà contare su una nuova scuola di musica a 360 gradi All'evento presente anche Claudio Noto presidente della School of Talent con sede principale a Roma Bagheria perché è una sede che sicuramente coprirà la zona di Palermo e provincia intorno perché ho altre sedi qui in Sicilia che sono a Marsala e a Barcellona Pozzo di Cotto e quindi con Maria ho pensato di fare questa scuola anche a Bagheria perché lei comunque è qui un personaggio è un personaggio che io valuto molto bene e quindi decidiamo di fare questa scuola Mi sento positiva mi sento bene anche perché a fianco a mio Claudio Noto quindi andrà alla grande sicuramente E da Roma come mai hai scelto questa location qui in Sicilia? Proprio a Bagheria? Ma io ho scelto in realtà la Sicilia perché valutando un po' di scuole da tanto tempo che frequento la Sicilia io sono siciliano un anno di tutto e quindi sono stato sempre invitato come giuria in vari festival eccetera eccetera e ho valutato un po' di scuole che giravano la Sicilia che stavano in Sicilia e ho notato che molti sono improvvisatori e quindi ho deciso mi sono impuntato di fare una scuola professionale Siamo partiti da Marsala poi Barcellona adesso Bagheria E qual è l'invito che vuoi dare a tutti coloro che vogliono cantare da presidente della School of Talent? Da presidente a tutti coloro che vogliono cantare che innanzitutto bisogna studiare noi non facciamo karaoke quindi non è che insegniamo facendo cantare i ragazzi con le basi prima si parte da una tecnica vocale si parte dalla respirazione si parte dal pianoforte voce eccetera e poi comunque non è solamente una scuola per professionisti per chi vuole cantare a livello di mestiere è una scuola dove tu vuoi educare la tua voce Si parlerà di musica e di canto a livello professionale chi seguirà i vostri allievi? Allora si parlerà di musica si parlerà anche di strumenti perché noi insegniamo anche la chitarra, il basso, la batteria eccetera eccetera e poi abbiamo scelto degli insegnanti professionisti quindi degli insegnanti con il titolo spero, non finito quindi che hanno fatto il conservatorio e te lo presento uno Salve, io sono il maestro Giordano Non hai bisogno di presentazioni? Bocologo Docente di canto moderno e bocologo quindi presterò la mia opera all'interno di questa struttura Come ti senti all'inizio di questa avventura con la scuola utile? Molto gasato, molto gasato perché mi piace conoscere gente nuova e portare avanti il mio lavoro in altre situazioni, in altri ambiti speriamo di poter fare un ottimo lavoro e di poter aiutare davvero tanto le persone che si rivolgono a noi Com'è lavorare con Maria Nucatola? Ah, è come lavorare con mia sorella Cioè, Maria Nucatola ci siamo conosciuti circa un anno e mezzo fa è stato amore a prima vista e c'è stato un motivo il destino ci ha fatto incontrare Invece tu Maria, com'è lavorare qui in Sicilia ma con l'appoggio di un presidente nella capitale dell'Italia in Sicilia già diciamo che questo mi stimola tanto perché è la mia terra dove decine e decine di ragazzi mi seguono e che io seguo adesso l'appoggio a Roma con il discografico Claudio Noto rafforza anche le mie esigenze per questi ragazzi affiancato dal maestro Ugo dall'insegnante Maria Corso dall'insegnante Deborah Missoni e dagli insegnanti di musica che avremo nella scuola faremo tantissime belle cose assieme infatti vorrei adesso Maria Corso accanto a me non dire pure Anche tu qui presenta la School of Talent qual è l'invito che vuoi dare ai tuoi speriamo prossimi studenti? Ma guarda, io dico sempre che il talento va accompagnato dallo studio perché se hai talento e studi prima o poi se sei tenace e non molli succede qualcosa importante quindi io sono qui a braccio aperto ad accogliere tutti gli allievi a mettere a disposizione la mia esperienza ventennale anche se sembro più piccolina in realtà l'età c'è vent'anni di esperienza ci sono io mi occuperò dei più piccini quindi è anche un lavoro più arduo quindi si, si, si si pensa che con i bimbi sia più facile invece no, è molto più difficile però c'era però sicuramente grazie all'aiuto anche del maestro Giordano e niente, siamo qui felici tutti di far parte di questa sono felicissimo di far parte di questa magnifica squadra ce la metterò tutta assieme a tutti questi insegnanti all'ottima riuscita di questo progetto il nostro motto ufficiale è il successo inizia da noi raccolta l'inseglie della solidarietà nel quartiere Bocca di Falco di Palermo per aiutare le famiglie più bisognose della zona la proposta è stata attivata da Nicola Arduilo residente della zona che ha lanciato l'iniziativa per cercare di sensibilizzare quanto più persone possibili ed aiutare così tutte le famiglie e difficoltà che nel quartiere aumentano sempre di più visto i tempi difficili fortunatamente in tanti hanno partecipato e creduto in questa iniziativa nella zona grazie anche al contributo del consigliere di circoscrizione che ha partecipato all'evento si è concluso nella giornata di ieri l'ottava edizione del premio letterario di poesia Giulio Palumbo tenutosi presso i locali della casa comunale di Ficarazzi presenti l'assessore alla cultura Giovanni Gian Lombardo il sindaco Paolo Martorana la signora Palumbo e tanti personaggi illustri tra la giuria Tommaso Romano presidente del premio le professoresse Maria Patrizia Lotta Teresa Giannone Concetta Gian Porcaro l'ingegner Nino Sala e Giacomo Pedone responsabile del premio dottor Giuseppe Bagnasco il sindaco Paolo Francesco Martorana ha dedicato l'intera manifestazione all'amico scomparso Calogero Aurilio la manifestazione ha alternato passi scritti per l'appunto dei premiati ed intermezzi musicali a cura dei maestri Francesco Maria Martorana alla chitarra classica Francesco Viscuso al violino e Silvia Frittitta alla voce percussioni la manifestazione letteraria giunta ormai all'ottava edizione ha ancora una volta rappresentato un'eccellenza per il percorso di crescita della nostra comunità ha dichiarato il sindaco Martorana abbiamo delle precise responsabilità nei confronti delle generazioni che verranno tramandando la nostra conoscenza e le opere dei personaggi illustri questo programma è stato offerto da un buon inizio di settimana a tutti gli italiani che seguono ilmeteo.it previsioni per lunedì 29 settembre 2014 l'anticiclone delle azzorre si sposta verso oriente e correnti più umide atlantiche raggiungono l'arco alpino con isolate e deboli piogge ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it al nord nubi in aumento su tutto l'arco alpino nel corso della giornata qualche occasionale ma debole pioggia potrà interessare i rilievi del Piemonte della Valle d'Aosta e del Friuli Venezia Giulia bel tempo invece altrove al centro bel tempo soleggiato sulle regioni peninsulari qualche nube in più sulla Sardegna occidentale ma del tutto innocua raggiungiamo infine il sud su queste regioni la giornata sarà bella e pienamente soleggiata per tutto il corso della giornata i venti soffiano debolmente dai quadranti meridionali sul Tirreno e Alto Adriatico uno sguardo alle temperature minime in ulteriore leggero aumento saranno comprese su tutta l'Italia tra 15 e 22 gradi sotto i 10 gradi nelle valli e nelle zone alpine durante il giorno prevediamo 20-27 gradi al nord con i valori più bassi in Piemonte 22-27 gradi al centro e fino ai 28 gradi del sud ilmeteo.it è lieto nell'augurarvi una buona giornata e ringraziarvi di averci seguito arrivederci Buona giornata con l'Almanacco Barbanera oggi è il 29 settembre si festeggiano i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele il nome Michele deriva dalla frase ebraica Mikahel che vuol dire chi è come Dio ed è attestato in molti brani del Vecchio Testamento Gabriele viene dall'aramaico Gaberhel e significa eroe di Dio e il nome Raffaele deriva dall'ebraico e significa Dio ha guarito Dice il proverbio parlare e tacere a tempo è la vera saggezza Sono nati oggi Caravaggio, Enrico Fermi, Felice e Gimondi Il 29 settembre 1995 esce il film Apollo 13 capolavoro del regista statunitense Ron Howard con Tom Hanks ispirato alla vicenda realmente accaduta alla missione NASA nel 1970 Il 29 settembre 2011 dal deserto del Gobi la Cina popolare lancia il suo primo modulo spaziale la navicella Tiangong 1 è il debutto dell'era del dragone nello spazio Infine il 29 settembre 2001 il Corriere della Sera pubblica l'articolo La rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci scritto sull'onda dell'attacco alle torri gemelle poi in versione integrale divenuto un libro Rai Gofort ha detto ci sono due tipi di persone che ti diranno che non puoi rappresentare la differenza nel mondo quelle che hanno paura di tentare e quelle che hanno paura che tu ce la faccia Arrivederci da Barba Nera dal 1762 l'almanacco più amato d'Italia Bentrovati con l'oroscopo di Barba Nera l'almanacco italiano dal 1762 lunedì 29 settembre Ariete stati attraversando una fase evolutiva è vero le difficoltà non mancano ma le raccogliete come delle occasioni per dimostrare quanto valete consapevoli di ciò affrontati a viso aperto e con determinazione le sfide che vi trovate davanti Toro in questa fase sembra che gli eventi vi sfuggano di mano che siano in continua evoluzione e quindi difficilissime da tenere sotto controllo non inquietatevi se non vi sentite padroni della situazione e proseguite sicuri per la vostra strada Gemelli date le ostilità della luna e di Marte che portano irritabilità inquietudine e confusione è evidente che la giornata sarà problematica lasciate stare le prese di posizione e le crociate ideologiche vi porterebbero solo ulteriori grai Cancro la luna transita è un segno non molto affini al vostro e gli effetti non tardano a farsi sentire umore in ribasso e grani in aumento non fatevi prendere dall'ansia fatevi un viso a cattivo gioco è la tattica migliore per limitare i danni Leone intuito e intelligenza si uniscono in un proficuo matrimonio d'amore a voi la scelta di come mettere a frutto tanta generosità astrale trovate le giuste soluzioni ai vostri problemi anche i più complessi finalmente tornate a sorridere Vergine siete silenziosi e poco inclini all'azione eppure le idee non sono molto chiare tutta colpa della luna e di Marte che ci mettono lo zampino ogni tanto volersene stare in pace per i fatti propri non è un delitto spiegatelo ai vostri amici Bilancia improvvisa vi si prospetta l'opportunità di concedervi un breve viaggio niente esitazioni non c'è ragione per cui non dovresti approfittarne si tratterà forse di una trasferta di lavoro in ogni caso vi sarà utile per spezzare un po' la routine Scorpione momento di flessione nella vostra serie astrale positiva colpa della luna che lascia il segno rendendovi vulnerabili e insicuri non siate ingenui non date retta al primo venuto che vi promette mari e monti un po' di buon senso Sagittario le stelle oggi vi invietano a fare un giro sul loro otto volante astrale tanti e contrastanti di influssi planetari c'è un po' di confusione ma non è detto che con la vostra inventiva non troviate un modo per volgere tutto a vostro favore Capricorno nel senso di insoddisfazione forse deriva dal fatto che è arrivato il momento di imprimere un indirizzo più preciso e delineato alla vostra vita non abbiate timore di prendere decisioni anche drastiche ve ne avvantaggerete in un prossimo futuro Acquario nuove e interessanti conoscenze irrompono nel vostro quotidiano rivoluzionando positivamente l'organizzazione della giornata non fate resistenza se ci pensate bene è anche un'ottima occasione per superare l'impasto di questo ultimo periodo Pesci la luna da oggi ostile dal Sagittario e anche in pessimi rapporti con Nettuno lascia presagire imprevisti e contrattempi sul vostro cammino ma non perdetevi danni facendo appello alla vostra capacità di reazione dimiterete i danni Grazie a tutti